Dobbiamo farli bollire, quando sono bolliti, li togliamo, mettiamo e noi cominciamo a pulire. Praticamente oggi ne abbiamo puliti di 50 kg. Se ne restano 3 kg, 4, è il massimo che può restare. Facciamo con la pasta e basta. Perché secondo me fanno i fritti impannati con la pastella, sono tutti appiccicati, piccolini così, cosa fanno? Perché noi sono 37 anni, ma ci saranno gli ultimi 10 anni o 15 che li facciamo. Perché prima c'erano nel lago, ma non sono macerata, ma non sono. Questi sono pescati locali. È un periodo che ci sono perché hanno le uova, perché adesso non so se qualcuno ha l'uovo, ci sono. Comunque hanno le uova, allora per quello che arrivano arriva un po', non solo penso proprio in mezzo all'alue, e le prendono. Piano piano dopo spariscono, quando ha depositato le uova, si nascondono, non si prendono più niente. Però per un mese o due se ne prendono tanti. Dopo va anni, come tutte le cose, degli anni, e me ne portano tantissimi, dagli anni 20 chili, 30, 15, perché non ce ne sono. Come tutte le cose, come tutti i frutti, dalle piante o non altro genere.